Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica e spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli tendenze energetiche romantiche per la seconda metà di luglio 2024. Ok. La luna amici dei gemelli. Periodo, mi viene da dire introspettivo, potrebbero esserci delle emozioni che ritornano dal passato, magari dei vecchi pensieri, delle paure, dei timori. Andiamo un pochettino a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come vi dico sempre le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mindrezzio menne caso vogliate contattarmi, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link alla playlist dell'oroscopo annuale e stagionale, dove troverete sia l'oroscopo dell'estate che quattro oroscopi per il secondo semestre del 2024. Uno in generale, uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e uno sul lavoro. Poi, l'ultima cosa, farò poi un video specifico dove spiegherò delle cose, insomma, delle novità per quello che riguarda il canale, però avevo intenzione di mettere in promozione per tutto il mese di luglio la lettura semestrale, solo che finché non faccio il video non riesco a dirlo, io inizio a anticiparvelo. Quindi per tutto il mese di luglio ci sarà in promozione la lettura semestrale, che è una carrellata generale su vari settori della vostra vita da qua a sei mesi. Se volete saperne di più, mi potete contattare via mail e io vi mando la lettera di presentazione. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per questo periodo. Io parlerò della vostra energia e di quella del vostro partner. Se avete qualcuno, tenete presente che potreste sentire anche le energie invertite. Se non avete nessuno, rimanete con quello che io dico essere la vostra energia. Allora, partiamo da una regina di bastoni, un'otto di spade, un'ottore di spentacoli, uno di coppe, un'ottore di quart Zen15, un'ottore di braccia, un'otto di costana, un'oppiazionata, un'otto di coppe, uno di coppe, un'ottore di ... Deci di spade e cavaliere di bastoni. La sensazione, ragazzi, è che conosciate già una persona, potrebbe essere un'ottore di una persona del passato adesso andiamo a vedere questo 8 questo 10 di spade ma ho come la sensazione che non vediate sviluppi andiamo a vedere carta per carta partiamo dalla regina di bastoni ruota della fortuna e 5 di pentacoli guardate con la ruota della fortuna come se ci fosse un qualche sorta di cambio mi viene da dire o in certe dinamiche monetarie ragazzi monetarie potrebbero esserci dei cambi potrebbe essere come ci quelli pentacoli fa riferimento a una ferita da rifiuto o una ferita d'abbandono e qui è un po come se cambiasse l'attitudine se quello risuonasse con voi e un po come ok non c'è più niente da fare non mi importa di essere abbandonato abbandonata non mi importa di essere rifiutato rifiutata perché qua non vedi sviluppi anzi adesso andiamo vedere lotto di spade e vi dirò che per qualcuno si tratta di un cambio delle dinamiche dovuto a una delusione andiamo al lotto di spade sacerdotesse 2 di coppia come se non si riuscisse a vedere la coppia in armonia perché la carta principale è un atto di spade quindi qui c'è qualche cosa che voi vedete più nero di quello che è e come se foste nel ruolo vittima adesso andiamo a vedere di pentacoli dieci di spade radi coppe cavaliere di spade asso di pentacoli e che qui ho la sensazione che qualcuno di voi voglia chiudere ma allo stesso tempo cioè no che non voglia chiudere ma che allo stesso tempo abbia come preso consapevolezza che la persona che c'è dall'altra parte non è per voi o come se non riusciste ad innamorarvi come se non riusciste a affidarvi o affidarvi al cento per cento questa persona e per quello che c'è questo 8 di spade come se aveste perso un po le speranze adesso andiamo a vedere l'asso di coppe e potrebbe essere a causa di questa delusione 9 di spade 3 di pentacoli c'è qualche tema che ritorna a galla e che vi ha già preoccupato che torna a preoccuparvi e come se la dinamica si ripetesse non credo che si veda bene da parte di entrambe le persone cioè non credo che ci sia una comunione di pensiero per quello che riguarda avere una relazione in equilibrio e come se ognuno di due avesse la propria idea e non si riuscisse a incastrarle vi dico io sento che l'altra persona è disposta a fare un passo nei vostri confronti ma siete voi che è come se vi rendeste conto che l'altra persona non vi può dare quello che voi vi aspettate è come se vi rendeste conto che non vi dà abbastanza o ripeto ci sono certe tematiche che a voi non vanno giù e che continuano a ripetersi e che insomma non riuscite a lasciarvi indietro andiamo a vedere al 10 di spade perché è uscito anche pieno regina di coppe qui abbiamo il re di coppe ragazzi se per caso l'altra o uno o l'altro diciamo così avete già una storia in piedi una relazione un matrimonio in piedi e di conseguenza la persona di riferimento che avete in testa in questo momento potrebbe essere la terza parte o come la sensazione che non si voglia in un certo senso o non si possa vedere per qualcuno e non si voglia vedere una relazione per qualcun altro non si possa vedere una relazione insieme proprio perché c'è già un altro tipo di realtà in piedi adesso andiamo a vedere il cavaliere di bastoni però è come se si facesse fatica in questi 15 20 giorni a vedere un futuro a vedere in là con questa persona perché come se ci fossero ancora dei temi vecchi del passato che si ripresentano che non sono stati risolti e quindi si fa fatica a vedere un futuro è come se si dovessero mettere certe regole certe stabilire certi parametri il punto che come vi dico è come se fosse su vibrazioni diverse quindi i parametri potrebbero essere diversi regina di spade fante di bastoni e otto di coppe guardate in realtà sento che qui le carte dicono un po come sperimentatevi sfidatevi conoscetevi sotto nuovi punti di vista sotto nuovi aspetti come se vi dicessero datevi una possibilità tenete presente che avete sia la regina che la carta della giustizia regina di spade che la parte della giustizia è come se ci fosse bisogno di dare una regola di dare un indirizzo a questa storia questa relazione a questa situazione perché qui ripeto ci sono come delle cose ancora aperte che non sono state concluse dinamiche che non sono state guarite che si potrebbero ripresentare all'interno della relazione e qui il punto è che come se non si riuscisse o non si creassero non si creasse un terreno fertile per creare una relazione a due perché vedo che c'è qualche impossibilità dall'esterno per qualcuno è una vita già in piedi come vi dicevo una famiglia una compagna lo che è per qualcun altro è semplicemente il fatto che appunto essendo su vibrazioni diverse non si riesce a trovare come un senso comune alla relazione o come quest'idea proviamo andare a vedere di cing ragazzi tenete presente che con la carta dell'aluno che potrebbero esserci delle proiezioni e con lotto di spade anche è una carta che parla di qualcuno che è molto pessimista che vede tutto nero effettivamente e qui c'è come da vedere oltre la coppia oltre la relazione a due come questa sensazione va bene andiamo a vedere le cinghie che cosa vi vogliono far notare far sapere ok abbiamo la carta numero 57 il vento e la carta numero 16 il fervore adesso vi dico a che cosa fanno riferimento tenete sempre presente che ho comprato il libro in un momento diverso rispetto alle carte quindi le traduzioni sono diverse allora questa viene tradotta come il vento e sul libro viene tradotta come il mite e la spiegazione di questa carta per ottenere qualsiasi cosa si deve operare gradatamente con una specie di convinzione garbata e continua non assalendo con violenza per ottenere tutto d'un colpo da che mondo e mondo ogni cosa per concedersi vuole per concedersi vuole noi diremmo la goccia che scava la pietra l'arma principale diventa quindi il tempo che moltiplica l'effetto minimo fino a farlo divenire imponente in questo modo la persona intelligente ottiene ciò che vuole e regola i suoi affari un passo alla volta con calma e perseveranza senza fracasso che serve solo ad allontanarci dagli altri e con una meta precisa non ci si può dirigere a casaccio ora in qua ora in là ma si deve persistere sempre nella stessa direzione sarà opportuno anche trovare un aiuto in altra persona devo vedere la carta numero 16 il fervore che qui viene tradotto come la felicità e la spiegazione è il periodo di cui l'esagramma si occupa e fervido di attività le prospettive sono ottime per chi sappia comportarsi saggiamente comincia l'epoca dell'attività gioiosa che caccia le nebbie si allenta la tensione che ci aveva presi durante la forzata inattività e avvertiamo in noi un'ebrezza fervida trascinante simile a quella che può darci certa musica bisogna darsi da fare sarà bello trovare persone che aiutino e nello stesso tempo guidare indrizzare in comunità di intenti chi ci sta intorno sì come se ci fosse bisogno di trovare una visione comune come vi dicevo sento che per certi versi ci sono delle differenze di vibrazione piuttosto che di idee piuttosto che di terreno su cui edificare cari amici dei gemelli questo è quello che avevo per voi spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessioni interessanti fatemelo comunque sapere nei commenti se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like potete iscrivervi condividere il video anche fare una piccola donazione se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail è un percorso sulle credenze limitanti quindi si andrà a lavorare specificatamente su un settore della vostra vita che volete migliorare io in questa serie di incontri vi insegno come usare la tecnica dopo di che voi l'applicherete su ogni singolo settore della vostra vita se avrete piacere diventerete autonomi comunque voi mandatemi un email e io vi mando la lettera di presentazione diversamente c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale se preferite andare a vostro ritmo tutta la sezione degli abbonamenti parla di temi di metafisica quindi spiega effettivamente la teoria e vi do anche degli esercizi pratici che servono a migliorare pulire alleggerire il vostro campo energetico per far sì che riusciate a sintonizzarvi sulla nuova realtà che volete manifestare bene io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao